Grazie, signor Sottosegretario. Vice-Ministro dell'Economia e delle Finanze, onorevole Luigi Casero, facoltà di rispondere. Prego. Grazie, Presidente. Con l'interpellanza urgente, l'onorevole Renato Brunetta pone quesiti in ordine alla situazione della Banca Monte dei Paschi di Siena e, in particolare, chiede di conoscere le iniziative che il Ministero dell'Economia e delle Finanze intende intraprendere rispetto alla situazione MPS, le iniziative interprese in passato nei confronti della Fondazione MPS. Con riferimento al primo quesito, si evidenza come Banca Monte dei Paschi di Siena, stia analizzando diverse strategie al fine di alleggerire la propria posizione relativamente al livello delle proprie sofferenze. Ed infatti, dalle comunicazioni ufficiali diffuse dalla stessa MPS ed, in particolare, dal comunicato ufficiale del 4 luglio 2016, risulta che gli organi competenti della stessa abbiano avviato immediatamente le interlocuzioni con la Banca Centrale Europea al fine di comprendere l'esatta portata di tutte le indicazioni contenute nella bozza di decisione e di presentare le proprie deluzioni al riguardo, in vista della decisione finale, la cui emissione è prevista entro la fine del luglio del 2016. In aggiunta, nel mesimo comunicato stampa, si legge che i parametri imposti dall'autorità comunitaria sono in linea con gli obiettivi di un programma di specificazioni recentemente approvato dai competenti organi della Banca e contestualmente sottoposto alle valutazioni della BCE, finalizzato all'incremento dell'importo delle dismissioni di non-performing loans, già previsto nel piano industriale 2016-2018. Posto ciò, preso atto della situazione di tensioni sui mercati finanziari conseguentemente agli esi del referendum svolto nel Regno Unito in merito alla permanenza nell'Unione Europea e alla prossima diffusione dei risultati degli esercizi di stress test dell'EBA, che interessano fra le altre banche anche MPS, non si esclude che vengano avviate laddove dovessero rilevarsi necessarie eventuali misure di supporto pubblico in pieno accordo con le istituzioni dell'Unione Europea e dell'Unione bancaria. Con riferimento al secondo quesito, si premette che il Ministero dell'Economia e dei Finanze, i sensi dell'articolo 7,3 del Decreto legislativo 153-99, effettua la vigilanza sulle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni detenute dalle fondazioni nelle società bancarie conferitarie e in particolare verifica la legittimità dei processi decisionali e delle operazioni deliberate e autonomamente valutate dai competenti organi della fondazione. In relazione alle operazioni relative alla conferitaria, la fondazione ha in passato evidenziato prospettive positive nell'investimento a fronte di rischi di perdita sul valore della partecipazione detenuta in caso di mancata sottoscrizione della propria quota di aumento di capitale. Rispetto a tali valutazioni, il Ministero ha costantemente evidenziato all'ente la presenza di rischi e l'esigenza di perseguire un programma di riduzione dell'esposizione e successivamente di risanamento emessa in sicurezza dalla fondazione. Tutte le questioni comunque oggetto dell'interpellanza sono oggetto di costante attenzione da parte del Ministero. La ringrazio, onorevole Brunetta, a facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza, per la risposta. Grazie, signor Presidente. Grazie, signor Sottosegretario. Al di là della sua personale credibilità, signor Sottosegretario, vi faccio dire una cosa. Una risposta quale lei ha letto oggi, io la considero indecente, inaccettabile. Una presa in giro non a me, ma al Parlamento e agli italiani. Vede, signor Sottosegretario, come lei sa, visto che di mestiere fa anche lei è l'economista. Qui sta venendo giù tutto. Sta venendo giù il sistema bancario italiano.